Gino parla qualcosa perché dopo... Comunque a tutti i tuoi temponi, capisci? È spettacolaro. Sì, come tu stai raccattando? Sì, a merda. Sì, a merda. Sì, a merda. E il mondo è come questo? Sì, a merda, a merda. Sì, 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 a merda. Tutti moranesi? E Pasquale? Metti la cravatta? Sì, dopo me la metti tu, né? Sì, te la metti. Sì, a merda. Dove l'hai messa? Ah, qui è la persa. È persa? Mamma mia. Sì, a merda. Sì, a merda. Sì, a merda. Sì, a merda. Sì. Ci sono. Sì, a merda. Sì, a merda. i capelli si sono bellissime sono molto un po di scappa del lavoro allora comunque questo gioco questa bellissima peste di oggi lui c'è tutta forza riguardo alla salsiccia che c'è prestato è la tradizione di morale locale e quindi oggi per noi c'è diretto ricordando i morenni ricordando la nostra vecchia terra il teare morale e quindi per noi è una soddisfazione comunque io ringrazio a lui a riguardo che ci ha aiutato lui è quello che fa le salsicci c'è un prosciutto e quindi Gino grazie a te alla prossima Gino Calabrese Morandese